L'estate sta arrivando Il calcio se ne va Buongiorno Mi è piaciuto questo Come se avessi il ciuffo Sono senza capelli Buongiorno amici dello giocolo duro Ho voluto fare questo ingresso Ciuffato senza ciuffo Allora l'estate sta arrivando Il calcio è finito ragazzi Io sto sentendo queste voci di mercato A parte che tanto Al momento Sono solo chiacchiere e distintivi Infatti avete visto ieri non ho fatto neanche il video E' vero che sono stato preso Ma tanto sono infortunato Mi fa male tutta la schiena La squadra dello giocolo duro Che abbiamo la squadra di calcio a 7 Sta andando avanti poi ve ne parlerò Comunque calcio mercato Zidane saluta real Ieri ho visto che tutti hanno parlato Di Zidane che saluta real Semplicemente perché non è che ci siano grandi notizie Ha fatto bene Ha fatto bene a lasciare il real Perché ha vinto 3 Champions di fila Probabilmente ha ragione Sia per lui che per la squadra C'era bisogno di cambiamento Probabilmente andava incontro a un anno Difficile Quindi è stato un bene sia per lui che per il real Cambiare aria Non so se ha voglia di mettersi in gioco Ma a quanto pare no Quindi penso che voglia anche prendersi un anno di relax Perché per noi è sempre un gioco Un divertimento Però per loro è un lavoro Stare 24 ore Stress, pressioni In una piazza così importante È un lavoro molto stressante Quindi a volte se vedete alcuni allenatori Si prendono un po' di pausa Per rilassarsi Parlano di una possibile Francia Una nazionale Però secondo me non ha senso Una nazionale la devi prendere Per andare al mondiale Non è che la prendi E adesso che mancano 4 Cioè perché questo mondiale non la può prendere Poi devi aspettare 4 anni per il prossimo mondiale Proprio uno che non c'è Uno che posso stare in vacanza Dice prendo lo stipendio lo stesso Ma sto in vacanza Quello è un po' il succo di chi È un top allenatore Allena nazionale adesso Comunque Zidane via Andare Il Real Madrid Non penso che venderanno il CR7 Non penso che lo venderanno Anche perché ragazzi Ma adesso Col fair play finanziario Soprattutto il fair play finanziario 2.0 Che sta arrivando Dove limiteranno anche Le sponsorizzazioni Massimo gap di 100 milioni Di euro Eccetera Anche gli altri dovranno iniziare a abbassare Quindi non è che Adesso Cristiano Ronaldo Chi lo compra Dicono che il Paris Saint Germain Lo vuole prendere lui Ma come fa? Come fa? Già hanno preso Neymar Con una gabola Con una gabola Che l'hanno fatto pagare Praticamente Lo sponsor L'ha pagato Neymar Neymar si è autopagato Il riscatto E poi è andato là Hanno preso un Bappé Prestito gratuito di un anno Lo pagano quest'anno In questo nuovo esercizio Dal primo luglio Quindi come fanno A mettere a libero pagare Se fanno un'altra gabola Ma l'UEFA Si fa prendere in giro Fino a un certo punto Dopo un po' Infatti quest'anno Li hanno mazzolati Il Paris Saint Germain Subito gli è andato A Real Madrid Li hanno amati subito a casa E non è un caso Secondo me Quindi Chi lo prende C'è R7 40 milioni 30 milioni di ranno Da dargli Solo di stipendio Più a lui Lo vuoi pagare Almeno 200 milioni Secondo me Rimarrà a Real Madrid Giustamente Lui è arrabbiato Perché non lo aiutano Per i problemi fiscali Ma rimarrà a Real Madrid La Roma Voglio parlare La magica oggi Perché è l'unica Che ha messo a segno Dei veri colpi di mercato Ha preso Dei giocatori Semi sconosciuti Marcano Coric Cioric Sta prendendo Il giovane Klaivert Però si sta muovendo Sono quei giocatori Che poi ti possono esplodere Come un der Alla fine L'ho preso un der E' un pirla Un pirla Un pirla Poi tanto pirla Non è Quindi intanto Lui ha messo a segno I suoi colpetti Monci E si è un po' sistemato Di servire al regista Ha preso il ciore Si è sistemato Adesso Si trova In una posizione Che può fare Un mercato Come dice lui Cioè può vendere bene Solo se gli offrono bene I variali Giornangolani Eccetera E può andare poi Eventualmente A prendersi un colpetto L'anno scorso Ha fatto un ottimo mercato Monci Secondo me Non lavora male Ha sbagliato ovviamente A vendere Salah 40 milioni Però Doveva chiudere Il buco di bilancio E Parliamoci chiaro L'esplosione di Salah A me è sempre piaciuto Però Da 40 A 200 milioni È avvenuta Fondamentalmente Quest'anno Quindi È vero Che ha venduto Salah E ha preso Secondo me L'errore È stato prendere Schick Si è ritrovato Un po' Nelle condizioni Di avere solo quello E Schick Secondo me Deve giocare Con le due punte Non deve giocare Nel tridente Ma io non vorrei vedere Nessuno col tridente Quindi Secondo me Monci non lavora male Io gli darei Una seconda chance Ieri L'anno scorso Ha fatto qualche errore Però Quest'anno Ha già iniziato bene La Lazio di Rotito Tutti parlano Di Milinkovic Savic La Juve Ha fatto un'offerta Di 80 milioni Ma Secondo me A meno di 130 140 Non si muove E soprattutto Non andrà La Juventus Tutti I Top player Tutti top player Non giocano In Italia Ce lo vogliamo mettere In testa Cioè I nostri top player Quelli che noi Pensiamo siano top player L'Europa Non li considera tali Altrimenti Li prenderebbe I vari guaine Di Bala Non sono dei top player Per l'Europa Infatti non giocano Nemmeno in nazionale Non giocano neanche Nainggolan Un altro Dei nostri top player Non gioca neanche Neanche convocato In nazionale Icardi Neanche convocato Quindi per farvi capire Che i nostri Trop player Non sono tanto considerati All'estero Adesso Ci sono gli anzianotti Buffon Che forse va a fare San Germen Bonucci Chiellini Ma non la loro età Infatti all'estero Piuttosto vanno a prendere 83 milioni Van Dijk Che non si sa Ma chi è Quindi Noi consideriamo Top player Top player Top player In realtà Siamo un campionato Di basso livello Adesso vediamo Cosa faranno Adesso Cosa vediamo Il Milan Fino a 15 giugno Non si muove Aspetta la sentenza UEFA Quindi E tra l'altro All'Europa Né a meno Quindi Quello che possiamo Prendere Dovrà essere Molto Oculato E soprattutto Tempestivo Oggi Siamo al Primo giugno E ancora Non sono stati Fatti acquisti L'unico Che li ha fatti E Monci Questo è molto male Secondo me Molto molto male Perché se poi Andrai in concorrenza Con le top D'Europa O con le squadre europee Ti alzano il prezzo E quindi poi Non trovi più gli affari Gli affari Nel calciomercato Si fanno prima Si fanno prima Ricordatevelo Dovono già essere fatti Dovono già essere fatti Noi abbiamo fatto niente Vediamo Cosa ci aspetterà Vediamo Cosa ci aspetterà Siamo in attesa Io vi saluto Vado a prendere La macchina nuova Quindi vedrete Una nuova location Da domani E da lunedì Dovremmo ripartire Con le live Non ve lo assicuro Ma molto 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 probabile Quindi ragazzi Diretta ciuffo Andata Ci vediamo A domani Oh Spolicciate Ciao ciao